Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto fotocamere digitali compatte Sony DSC-WX300 fotocamera. Sony DSC-WX300BI nero. 18, 2 megapixel, sensore CMOS Exmo R, zoom ottico 20x, full HD, intelligent auto, wifi ed effetti immagine. La fotocamera più piccola al mondo con un potente zoom ottico 20x. Scatta fino a 500 foto con una sola carica della batteria. Condividi foto e video tramite wifi e il tuo telefono. Questo video partecipa al programma Affiliazione Amazon Europa, dalla pubblicità e link all'Amazon IT. Per maggiori dettagli e ottenere un grande su Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.